Musica Alla fine gli unici a pagare di più saranno i balneari. La giunta regionale ha infatti approvato una prima proposta del bilancio di previsione per il 2016 e nonostante le poche risorse a disposizione ha deciso di non aumentare le imposte ai toscani dall'addizionale IRPEF che rimarrà tra l'1,45 e l'1,73% a seconda dei redditi all'IRAP alle accise sulla benzina. La sola eccezione è quella dell'imposta demaniale marittima che passerà dal 25 al 100%. Chi possiede uno stabilimento dovrà cioè pagare la stessa cifra sia al comune che alla regione mentre per le casse di Palazzo Strozzi Sacrati questo significa incassare 10,3 milioni di euro l'anno invece di 2. L'infa vitale per un bilancio 2016 che vale complessivamente 8,5 miliardi di cui l'80% riguarda la sanità e che fino a due settimane fa vedeva 130 milioni di euro di buco da coprire. L'assessore regionale Vittorio Bugli è riuscito a recuperarne 105 risparmiando in qua e in là e cancellando misure come il fondo rotativo alle imprese. Gli altri 25 dovrebbe metterli il governo. Resta però anche per il 2016 il problema degli investimenti. Quest'anno la regione ha avuto a disposizione 100 milioni di euro e il prossimo anno solo 70. La regione chiederà di poter escludere dal patto di stabilità i lavori cofinanziati con i fondi europei. Se dovesse farcela il budget lieviterebbe a 170 milioni per il 2016 e il governatore Enrico Rossi intende usarli solo per la sanità e la difesa del suolo. L'ultimo capitolo riguarda le slot machine. Mentre con la legge di stabilità il governo ha deciso di rinnovare le concessioni a 22.000 sale scommesse, la regione ha confermato gli sconti IRAP a chi toglierà le macchinette e mangia soldi dai bar e il relativo aumento a chi invece deciderà di tenerle. La bozza di bilancio è ora all'esame dei sindaci e revisori e entro fine mese verrà portata in consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Il maltempo non conosce confini. Le piogge, che nei giorni scorsi si erano abbattute sulla regione toscana, si sono spostate verso la Campania. Benevento, particolarmente sensibile a questo genere di fenomeni, ha subito accusato il colpo, con i fiumi Tammaro e Calore che sono esondati a causa del nubifragio. Il sindaco di Benevento, Fausto Pepe, ha ordinato la chiusura delle scuole ed ha consigliato ai cittadini delle aree già colpite di mettersi in sicurezza, allontanandosi dall'abitazione o salendo ai piani alti. In un momento di bisogno così intenso si è mossa anche la protezione civile della regione toscana. I volontari, infatti, sono partiti questa mattina per portare assistenza alla popolazione colpita dal maltempo. Si tratta, in primo luogo, di 35 volontari della protezione civile e, in seconda battuta, di 10 uomini delle pubbliche assistenze, con mezzi e attrezzature specifiche per l'intervento in zona alluvionata. Le squadre, mobilitate dalle province di Pisa, Lucca e Firenze, si muovono sotto il coordinamento del responsabile di protezione civile di Ampas Toscana, Andrea Lavecchia. Dalle 22 di ieri, inoltre, la sala operativa di Ampas Toscana, Sita in via Piofeli, segue in tempo reale l'evolversi dell'evento. La mobilitazione dimostra la straordinaria capacità della protezione civile della regione toscana, che ha dato prova di sensibilità ed attenzione nei confronti di un paese in ginocchio. Lunedì 19 ottobre ha avuto luogo un nuovo incontro organizzato da AgriRenovo S.P.A. per parlare di PIF, il progetto integrato di filiera nell'ambito del legname, all'interno della caratteristica Villa Pecori-Giraldi di Borgo San Lorenzo. Un'occasione che ha permesso ad aziende, imprese boschive del territorio e dal pubblico intervenuto di porre domande e ottenere risposte sul reperimento delle risorse, alla presenza del presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello, Federico Ignesti, ed alcuni rappresentanti dell'azienda cooperativa DREAM Italia. La società, tesa a supportare uno sviluppo rurale sostenibile attraverso la diretta implementazione di progetti ambientali, come spiega Paolo Bazzini. Un'attività di pubblicità dei progetti integrati di filiera, di cui è a capo la AgriRenovo S.R.L., per pubblicizzare l'iniziativa, ma più che altro per presentare il progetto di filiera come documentazione da inoltrare alla Regione Toscana per il finanziamento. Esaustiva è stata la spiegazione del PIF e dei suoi partecipanti, diretti ed indiretti. Un piano teso a reperire il legname ed il materiale necessario ad alimentare la centrale a biomasse di Petrona. Come spiega il responsabile della filiera a legno di AgriRenovo, Diego Dinkao, il piano ha l'obiettivo di creare una filiera integrata volta alla valorizzazione del patrimonio forestale locale e delle biomasse legnose, ricavate secondo i criteri della gestione forestale sostenibile. Un'importanza sottolineata anche da Federico Ignesti, parlando di aziende che al giorno d'oggi lavorano e collaborano insieme all'interno di un progetto di sviluppo al fine di migliorare quella che è la produzione. Aziende che potranno godere di incentivi volte all'acquisto di macchinari, tesi a modernizzare ed ottimizzare le attività di riperimento e trasformazione della biomassa forestale nell'ambito del progetto per l'impianto di Petrona. Autore dei sottolinei